ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi in questo video vi volevo informare delle live ragazzi ieri come qualcuno saprà ho fatto una live che però diciamo è andata un po di merda perché youtube va un po a cazzi suoi un po youtube è un po la mia connessione del cazzo e quindi la live è andata un po così alcuni la vedevano alcuni non la vedevano e quindi di conseguenza diciamo è andata un po a merda anche se un pochino un'ora e 26 di live l'ho fatta continuerò a fare le live però ragazzi le farò su twitch le live le farò su twitch potete trovare il collegamento twitch del mio canale twitch in alto a destra del canale youtube quindi aggiungetelo a preferiti se volete se bevate se provate magari a solo fare non c'è l'iconina twitch è un mondo diciamo c'è un icona di un mondo non so perché non mi mette l'icona del twitch però comunque sia il collegamento c'è twitch lo raggiunge insomma il collegamento quindi andate lì cliccate come ho detto se volete aggiungete la pagina continuerò comunque a fare queste live su twitch giocheremo insieme con chi vorrà giocare insieme a me faremo delle gare faremo delle cazzate free mode insomma faremo un po di cosine e andrò anche a trasmettere in anteprima l'eventorelli che riguarderà che riguarderà questo contest in pratica chi vince l'eventorelli vince un accanto mandato quindi comunque quando farò la live metterò un breve video su youtube che preannuncerò la live su twitch andrete su twitch e ne vedete il live niente ragazzi per questo video è tutto un saluto da maxi al prossimo video ciao a tutti